Ed ecco, una candela accesa e ci ritroviamo. Passano gli anni, si invecchiano un po', ma le nostre gemelle Kessler sono sempre qui. Ecco, e per Natale è bello potersi ritrovare insieme e portare la comunione. Chi non l'avesse ancora ricevuta e la volesse ricevere, basta solo che lo chiede al proprio parroco di fiducia. E intanto noi cantiamo... Le ore del cielo Allora siamo qui da Immacolata a 101 anni e noi gli diciamo... Buon Natale! Vieni in una grotta al freddo al gelo E vieni in una grotta al freddo al gelo E vieni in una grotta al freddo al gelo Ai quanto ti costò L'avermi amato al freddo al gelo E vieni in una grotta al freddo al gelo E vieni in una grotta al gelo Accompagnala e benedicela Tutti i bambini che accolgono e anche tutti noi con cui preghiamo Buona epifania a tutti! Ecco Ci hanno fatto pure il regalino Ringraziamo Siccome stanotte non è passata la Befana Sono passate le suore Quindi ringraziamo le suore Questo qua è la stessa... Anzi questo... Quello funziona... Ah questo va proprio dietro la testa Ce lo mostrano anche le nostre tartarughe Alzate la testa! La vostra liberazione è vicina! Il vostro salvatore sta per arrivare! Alzate la testa! Testa alta vi godrete il sole che nasce!